Io vi ringrazio, mi sono molto molto divertita, è stata una serata incredibile, un pubblico contento e io quando il pubblico è contento, si diverte, canta, io sono la persona più felice del mondo. Non ho bisogno di pensare adesso, no, e tu sarai la mia risposta, forse, già lo so, questo cuore ci sorprende ancora, riprendiamo ciò che è nostro se lo vuoi, cambia tutto, cambia adesso anche noi. Ma se vorrai ci sarò, accorceremo le distanze. Siamo l'estate migliore da vivere, siamo chi siamo, un colore da scegliere. E tutto ciò che ameremo sarà perché abbiamo scelto l'estate migliore che c'è. A tutti gli amici di Janas TV un bacio molto speciale e un fortissimo abbraccio. Ciao.